La vigilia di Lecce-Catani è certamente caldissima su entrambe le sponde, ma di sicuro in casa rossa-azzurra lo è ancora di più che in quella salentina. Per il Catani è stata una settimana tribolata, mentre a Lecce si è cercata la tranquillità per riscattare la sconfitta di Francavilla e mettersi nuovamente alla ricerca del primato perduto. Per i rossa-azzurri non poteva capitare avversario peggiore e di sicuro lo stesso vale per Giovanni Pulvirenti, che comunque per il suo temperamento e le qualità dimostrate nel settore giovanile merita una scienza alla guida della prima squadra. Sarà quindi tutt'altro che semplice l'ombra di Crespo, secondo i ben informati, incombe per la panchina, qualora il Catena non dovesse quantomeno mostrare di aver cambiato atteggiamento. Certamente cambierà qualcosa sia nell'undici titolare che nel modulo, che potrebbe tornare ad essere il 3-5-2. In questo caso, infatti, si dovrebbe tornare alla difesa 3 con Drauzio Bergamelli e Marchese a protezione di Pisseri. In media, la scoppa è favorito su Fornito per accompagnare i biaggianti e Bucolo, mentre sulle fasce è ballottaggio tra i grazi e Parisi a destra, anche se lo stesso Parisi potrebbe pure scalzare Giorgiovic a sinistra. In avanti, infine, sembra probabile che Mazzalani torni titolare, affiancando uno tra Pozzebonne e Tavares.